Regno Unito e Irlanda vogliono mantenere le loro frontiere aperte nonostante la Brexit. A dirlo la neopremier Theresa May e il suo omologo irlandese Enda Kenny, che hanno reiterato la propria volontà di non cambiare nulla alle frontiere comuni, malgrado l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Per entrambi i dirigenti, l'area di circolazione comune è fondamentale per le relazioni commerciali bilaterali. Sfruttiamo una zona di libera circolazione fra il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda da anni, anche prima che i nostri paesi entrassero nell'Unione Europea. Esiste una forte volontà da ambo le parti di preservarla. Adesso dobbiamo concentrarci su di un accordo che faccia gli interessi di entrambi. Siamo totalmente d'accordo nel fatto che non auspichiamo il ritorno delle frontiere del passato nell'isola d'Irlanda. Dopo riunirsi questo lunedì a Belfast con Arlene Foster, la May si è impegnata a cercare una soluzione pratica in modo che la frontiera fra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda non soffra di nuovo delle restrizioni avute durante il conflitto. Questa è stata la prima visita della May da quando ha assunto il ruolo di Premier.